Bene amici, incredibile, sono riuscito a farlo cadere in testa L'abbiamo visto in un unboxing di qualche giorno fa Il casco Smart Mi è piaciuto un sacco e ve lo dico subito Partiamo dalla costruzione che comunque è buona Fuori ha la calotta rigida Polistirolo all'interno per andare ad assorbire gli urti E poi un rivestimento che si può ovviamente togliere È lavabile, si attacca con il velcro E anche un sistema di adattamento alla testa Comodo Questo manettino lo stringe e lo allarga E permette di adattarlo un pochino a tutte le teste È omologato CE E anche l'omologa N1078 Che non è l'omologa più restringente per quanto riguarda i caschi da bicicletta Ma già ci garantisce che sia un buon casco Per quanto riguarda la protezione del capoccione Ma andiamo alle funzionalità Smart È Bluetooth e si collega in Bluetooth a questo Che è un telecomandino che si va a mettere molto semplicemente con un elastico Così al manubrio si fissa E si collega sempre via Bluetooth anche allo smartphone Non ho mai trovato grossi problemi di pairing Anzi non grossi, non ho mai trovato problemi di pairing Una volta che si accende da questo pulsante Si collega tranquillamente Qua ci sono due pulsanti per alzare o abbassare il volume della chiamata o della musica Anche senza l'ausilio del telecomando o dello smartphone Perché si possono fare anche queste operazioni dal telecomando o dallo smartphone E gli altoparlanti, vedete, sono posti qua È una posizione fantastica Poi li proveremo su strada e vi racconterò come si sentono E soprattutto come funzionano Ma le funzionalità smart sono un po' La prima, vedete, l'illuminazione dietro L'altra, le frecce Vedete che se schiaccio o il telecomandino Oppure anche sullo smartphone un'apposita funzione Si attivano le frecce Ma vi faccio vedere come l'applicazione che si abbina Possa anche andare a fare un tracciamento del percorso Ci dice una serie di informazioni Se tutte le volte che utilizziamo la bicicletta la utilizziamo E vi faccio vedere come nella prestazione del percorso tramite GPS Ci fa vedere la velocità, l'altitudine, la cadenza e il battito cardiaco Se avessimo installato i sensori della stessa marca Quindi di Lival per il battito o per la cadenza Io non ce li ho e quindi non ho questi due dati Ma a parte questo, dall'applicazione possiamo fare una cosa carina Raggruppare una serie di caschi Di una serie di ciclisti Per andare a intercomunicare proprio tra ciclisti Purtroppo è un solo casco Quindi non ho provato questa funzionalità Ma la cosa carina è che sul telecomando c'è questo pulsante Che consente proprio l'intercom tra ciclisti Non ho idea della portata In teoria è bluetooth Quindi dovrebbe essere 10 metri Ma spero che sia un po' di più Per far sì che non si deva stare proprio vicinissimi Però ripeto, purtroppo non ho più caschi per provare Ma la cosa bella è la possibilità di controllare il device direttamente da app Cosa si può fare? Si possono accendere o spegnere le frecce d'applicazione Cosa che in realtà non mi sembra tanto utile È molto meglio farlo dal telecomandino Ma si può attivare l'auto lighting mode In maniera da dire al casco che dopo il tramonto Prima dell'alba deve accendere le luci In realtà io preferisco tenerle accese sempre Perché comunque è un fattore di sicurezza E allora si possono settare Dall'accensione, lo spegnimento Così vedete un pochino abattito del cuore A questo effetto lampeggio A questo effetto che è un po' quello default Che secondo me è quello che vi rende più visibili Altra funzionalità veramente molto molto comoda È la funzionalità di emergenza Voi qua nell'apposita schermata Dovete mettere il vostro contatto di emergenza E guardate cosa succede se Adesso simulo la caduta Spero di non rompere il casco Ok? E il casco dopo la caduta Ovvero con l'accelerometro interno Rileva la caduta ma non sente più movimenti Guardate è partita la sequenza di emergenza Non so se si riesce a sentire Ma dagli altoparlanti esce in codice Mors Proprio l'SOS Che cerca magari di svegliarvi se siete caduti E se nel giro di 80-90 secondi Non fate niente Parte automaticamente L'SMS di emergenza Al contatto che avete selezionato E gli arriverà un SMS con le vostre coordinate Quindi per la sicurezza se siete in giro da soli Magari nei boschi Mountain bike eccetera eccetera È veramente un grosso valore aggiunto Ma adesso vado a provarlo su strada E poi torniamo per le conclusioni Qua siamo di giorno All'ombra Vi faccio vedere come si vedono i LED E anche come si vede la freccia Adesso ho schiacciato il comando qua Sul manubrio Freccia sinistra Sta lampeggiando E sento anche il bling bling Dagli altoparlanti Che mi dicono che ho attivato la freccia Ma la cosa bella È anche questa Dal telecomando sul manubrio Si può attivare la musica E volendo si può anche alzare E abbassare il volume Adesso vi faccio vedere sotto il sole Pieno Come si vedono le luci E le frecce Ho provato con la freccia A destra in questo momento E comunque il bling bling Lo si sente anche con la musica Si vanno a mixare i suoni Sempre col pulsantino sul manubrio Si può andare a cambiare canzone A stopparla E se arriva una chiamata Si può rispondere Sempre qua col pulsante sul manubrio Qualità dell'audio Molto buona in ascolto Perché i due altoparlanti Sono messi proprio qua Sopra le orecchie E devo dire che è veramente una figata Pedalare con della musica diffusa Ma anche sentire tutti i rumori Che ci circondano Per quanto riguarda la sicurezza Ho riattivato la musica Ho riattivato le frecce Sto facendo un po' di casino Ma per farvi vedere Che comunque anche andando a Utilizzare molto i comandi Non ho mai notato dei conflitti Degli scollegamenti Per quanto riguarda il microfono Che è messo qua davanti Beh diciamo che riuscirete a parlare Fino a una velocità circa di 15-18 km all'ora Oltre la turbolenza e il vento Sarà veramente fastidiosa Per chi vi ascolta Ecco unica cosa rispetto ai caschi professionali La ventilazione non è il massimo No vabbè ma che figata La musica nelle orecchie E le pedalate Girare in città in sicurezza Perché si sentono le altre persone Si sente tutto Si è come avvolti in una nuvoletta di musica Mi è piaciuta veramente tanto questa funzione Forse la killer feature del casco Belle anche le luci Visibili Le frecce Non so Le frecce anche no Non lo so Secondo me le braccia sono comunque meglio E più sicure Però comunque è un valore aggiunto 120 euro su Amazon Secondo me ben spesi Per la sicurezza Sempre in testa mi raccomando Visibilità Audio Chiamate In viva voce Tra l'altro con il pulsantino Se state facendo una pedalata E state utilizzando la sua applicazione Potete anche Magari avete il telefono messo così sul manubrio Schiacciare il pulsante E scattare una fotografia dalla camera Si forse la feature meno interessante Poi l'altra cosa che devo criticare È il fatto che questo pulsantino Si sarà anche comodo Quando siete in gruppo per parlare con gli altri Ma avrei preferito Attivasse l'assistente vocale di Google Che non si può attivare in nessun modo Si può solo richiamare l'ultimo numero Che abbiamo chiamato Sempre dal pulsantino sul manubrio Per il resto Ma per il resto non posso che Parlarne bene Mi sono veramente trovato alla grandissima Ecco forse l'unica cosa Avrei studiato un pochino meglio La ventilazione Perché non entra tantissima aria E l'altra critica è sul microfono Ti ho detto prima Fino a 10-15 km all'ora si sente Oltre no Forse potevano studiare meglio La soppressione dei frusci Ma vabbè Tant'è Quanto dura la batteria? 7-8 ore di utilizzo continuativo Con la musica Se usate solamente per luci e frecce Molto di più Secondo me Una settimana di utilizzo Si carica in un paio d'ore Molto semplicemente Con un aggancio magnetico E una presa USB Ragazzi Che dirvi Mi è piaciuto un casino Qualcuno nei commenti dell'unboxing Mi consigliava anche il Lumos Che è simile In realtà sono andato a guardarlo Hanno fatto una campagna Kickstarter Ma ha solamente la parte luci Ok Ha anche la possibilità di attivare La luce dello stop Se sente una forte decelerazione Grazie all'accelerometro integrato Ha anche luci anteriori Ma secondo me Il valore aggiunto è veramente Quello dell'audio qua Attorno alle orecchie Mi è piaciuto veramente un sacco Soprattutto per le pedalate In campagna All'aperto Con questi paesaggi bucolici Selini Immersi nella musica Molto figo Mi è piaciuto un casino Un saluto da Andrea Galeazzi Punto mettete il casco E vale anche per me Perché non lo metto Prendo sempre Però mi sa che con questo Lo metto più spesso Ciao